Bus troppo pieni e studenti rimasti a terra. Poco più di una settimana dall'inizio della scuola non mancano le segnalazioni di ragazzi e famiglie. Le ultime riguardano la linea C74, Como Uggiate e Valmorea, sia sulla fascia oraria del mattino che sul rientro. In particolare, ieri mattina la corsa delle 7.22 è arrivata a Cavallasca già affollata, tanto che gli studenti non sono riusciti a salire a bordo e hanno dovuto attendere le successive, accumulando ritardo. Stesso scenario all'uscita dagli istituti sulle corse delle 13.20 e 13.30 che passano da Via Varesina. Si tratta delle ultime situazioni segnalate in ordine di tempo che si aggiungono ad altri disagi legati per lo più alla zona del Canturino. ASF Autoline, l'azienda che gestisce gli autobus in provincia di Como, chiarisce quanto accaduto e annuncia un servizio di monitoraggio e rilevazione statistica per avvicinare il più possibile il trasporto pubblico alle esigenze della popolazione. In merito alle sinalazioni, confermiamo alcune criticità su Via Varesina-Vialissi, negli orari di uscita dal liceo Giovio, dovuti a flussi anomali in fasce di orario tradizionalmente meno affollate. Fanno sapere, ciò è dovuto al fatto che alcuni istituti in Convalle non hanno ancora applicato l'orario scolastico definitivo, in particolare quelli che hanno previsto la cosiddetta settimana corta e che, una volta a regime, adotteranno orari di uscita degli studenti spostati nel pomeriggio. Si prevede quindi un miglioramento delle condizioni di servizio non appena, come d'accordi tra ASF e gli istituti stessi, entreranno in vigore gli orari scolastici definitivi. E riguardo ai disservizi della fascia oraria mattutina viene precisato, nel caso in questione, molto probabilmente si trattava della prima corsa della serie e si è creato un sovraffollamento iniziale. Nel giro di pochi minuti da Cavallasca sono passati altri autobus diretti a Como. ASF suggerisce di consultare attentamente l'orario sul sito asfautoline.it per verificare lo stato delle corse e il riempimento effettivo dei mezzi. In ogni caso l'azienda invierà sul posto a partire dalla prossima settimana alcuni addetti per le verifiche e, come detto, per le rilevazioni statistiche.